Entro giugno la chiesa di San Giovanni Battista di San Martino Valle Caudina sarà riconsegnata ai fedeli in una veste completamente nuova. A gennaio 2014 l'inizio dei lavori, affidati a diverse ditte sanmartinesi. E dentro la prossima estate, come dichiara ad otto pagine Don Salvatore Picca, la chiesa sarà di nuovo a disposizione dei fedeli. Un intervento ormai durato un anno e mezzo, che era partito per fare poche cose, invece alla fine è finito per fare tutto praticamente, perché abbiamo riaggiustato il tetto che era già stato fatto, ma un intervento fatto male, abbiamo rifatto i tetti della canonica e della cupola, abbiamo rifatto tutta la tinteggiatura e il restauro degli affreschi e praticamente la chiesa è stata rifatta ex novo e riportata alla bellezza con cui era stata pensata. I lavori sono stati realizzati grazie ad un finanziamento dell'otto per mille della chiesa cattolica, che ha dato una parte dei lavori, poi grazie alla generosità di alcuni sanmartinesi che non vivono più a San Martino, molta parte è dovuta anche alle offerte dei fedeli che hanno partecipato al restauro della chiesa, perché la chiesa è nel cuore dei sanmartinesi.